Dopo il successo del Requiem di Mozart all'interno della Basilica di San Francesco, l'Orchestra Instabile di Arezzo ha davanti a sé un programma ricco di eventi che accompagnerà gli appassionati di buona musica in un vero e proprio percorso, dalla musica classica appunto a quella del cantautorato italiano, passando per il concerto di Capodanno. Sì, il prossimo appuntamento sarà il 15 dicembre presso il Convitto Nazionale e ci sarà un bellissimo concerto dove saranno impegnati gli Ottoni di Oida, un quintetto di Ottoni e un programma molto vario e molto accattivante perché andrà da Bac, Verdi fino ad arrivare a Sinatra e Morricone. Quindi diciamo che sarà un viaggio un po' nella storia della musica. Per Capodanno ci sarà il concerto di Capodanno ad Arezzo, è il terzo anno consecutivo che saremo impegnati in questo concerto di Capodanno. Ringraziamo la Fondazione Guido d'Arezzo e quindi anche il Comune che ci dà questa opportunità. Siamo felicissimi appunto di tornare al Teatro Petrarca e lo faremo con un programma che guarda a Vienna. Quindi eseguiremo musiche ovviamente di Strauss padre e figlio, quindi Walser, Polke, fino ad arrivare a Tchaikovsky, La Bella Addormentata. Comunque tutti i brani conosciutissimi e che comunque sono veramente, fanno parte di questo clima un po' di fine dell'anno inizio. A febbraio a Cortona il Teatro Signorelli ospiterà lo spettacolo Mogol racconta Mogol sul palco con l'orchestra lo storico autore di Battisti. A marzo, sempre a Cortona, un viaggio nelle musiche di De Andrè alla presenza anche di Dori Ghezzi. Incontreremo non soltanto un grande maestro che, ripeto, ha segnato le nostre vite con le canzoni più straordinarie, ma anche incontreremo la donna che poi ha condiviso la sua vita e ci può raccontare quindi da vicino l'esperienza di questo grande personaggio. Grazie